allora ciao a tutti oggi è 5 di febbraio faccio un piccolo aggiornamento sui carrubi ho già fatto pochi minuti fa un aggiornamento sulle querce ne approfitto visto che ho aperto la la mia serra che è chiusa praticamente tutta tutta la settimana la apro solo una volta per per innaffiare le piante ne approfitto in questo momento vi faccio vedere come procede con i carrubi carrubi ne sono morti definitivamente due in realtà più di due perché adesso andrò a toglierne un altro vi faccio vedere come come stanno le piantine a diversi mesi a questo punto dalla piantumazione tra l'altro ha fatto molto freddo si è raggiunti anche sotto zero siamo andati sotto zero per qualche giorno pochi giorni in realtà però la sera ha fatto molto molto freddo e secondo me le piantine hanno subito un po il freddo nonostante fossero chiuse all'interno della della serra però adesso vi faccio vedere allora come vedete queste sono questa è proprio la una delle prime che ho piantato e non sta male tra l'altro sta cominciando a mettere altre due foglioline quindi direi che sta bene invece qui per esempio vedete una che proprio non ha attecchito secondo me e qui davanti ce n'è un'altra addirittura che sembra proprio morta che non so se togliere completamente o meno vabbè facciamo così la tolgo e vediamo sotto come stava stava sta messa piuttosto male quindi niente e questo vasetto lo togliamo di qui e adesso lo riempiamo con qualcos'altro qui davanti abbiamo altri carrubi anche questi stanno mettendo delle foglie nuove qui ancora anche qui questo è rimasto molto molto basso non so per quale motivo mentre qui poi vi faccio vedere anche questi anche questi stanno mettendo delle foglie nuove si vedono quelle rosse e anche qui quest'altro sta cominciando a mettere delle foglie nuove dietro c'è un altro ancora questo lo stesso qui davanti ce n'è un altro carrubo e ancora qui dietro e qui anche qui davanti vedete ce n'è uno che non è mai realmente uscito però il non lo so questo non so se lo voglio togliere da dentro il terreno ancora voglio aspettare ancora un poco quindi niente questa era la situazione dei carrubi a febbraio molti si sono salvati però ne abbiamo persi in tutto due qualche mese fa e poi adesso altri due in realtà ne ho eliminati quindi quattro in tutto sono morti vabbè però verranno sostituiti con con altre piantine e niente vi do un nuovo aggiornamento fra fra qualche settimana magari ciao